andiamo a leggere la pace questa pagina è una chicca fermi fermi la chicca chicca in chat signori chicca in chat chicca in chat adesso la faccia è una chicca andiamo a vedere questa chicca la perla di rio games quello che hanno preparato da anni la chicca ha lavorato la serie modifici per aumentare l'esistenza di tutti i campioni quindi a differenza delle altre pace che solitamente si concentra il bilanciamento tramite le singole modifiche la 12 e 10 aumenta la resistenza generale neanche conseguenze dei sistemi collegati come guarigione scudi e resistenza ok quindi questa cosa qua già ti fa capire ragazzi che effettivamente l'enchant e utility è come diciamo noi più fight più lunghi quindi l'utility va over il playmaking perché il playmaking non ti vince più il fight più tempo è necessario ok quindi fight che fai champion che fightano lunghi potrebbe essere ok tipo la seavir quelle cazzate lì adesso vediamo ma non credo non ha non vedo il dps perché è vero che i fights sono più lunghi perché la gente ha più vita quindi non ha senso nemici aggiornabilità per esprimabilità buongiorno opportunità per esprimabilità ragazzi vuol dire questa roba qui va a favore dei champion skill ed ok perché i champion skill ed utility non puoi sbagliare spell sono abbastanza convinto di questa cosa qui però effettivamente le resistenze dei tank ho appena notato gli hp sono abbastanza broken voglio vedere voglio vederci voglio vederci meglio ragazzi ci aspettiamo in questa pagina cambia cambia un po il meta come sempre teniamo d'occhio la situazione con servizio interviene di nuovo no 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 guarda lasciate stare non vogliamo altri interventi riot state tranquilli rimanete lì non rompete il cazzo fate fare a me ed ecco qui ari so riru e riot hater una applauso al trio i creatori della pace signori sono qua almeno sappiamo chi andare a cercare perfetto paul lilu e gina i tre dell'ave maria repilogo patch si comincia ritocco i campioni swain e basta ok aggiornamento alla resistenza tutti i campioni ricevono 70 salute base in più crescita armatura 1.2 mr 0.8 3 c'è un pochino di base di resistenza verificato vedete lì il campione va in figa di tomare povera anime perdute va in figa di tomare per due ridotto rubaveta 10 per cento scudi rotti 10 per cento è una una presa in giro dovrebbe essere il 20 almeno rio tecnici nel valenza della partita 28 per cento le valimezzate le guarigioni molto interessante le guarigioni ok allora 28 per cento late ci può stare verità grave non mi interessa è giusto ridurre se vai a ridurre il resto i nerfs sono per prolungare il combattimento ok file più lunghi i champion a skill dove non puoi sbagliare sono più forti ne sono abbastanza convinto vediamo un po vediamo un po vediamo un po atrox ok sì vabbè raga ci sono 2000 campioni che devo andare a vedere tutti mi aspetto ragazzi sinceramente mi aspetto dei nerfs sulla guarigione i campioni e basta dai devo leggermeli tutti devo leggermeli no no non rompeti i coglioni ragazzi per favore ragazzi finiamo tra un'ora finiamo va bene va bene va bene va bene ecco per voi sfidranno atrox nerf healing ci sta ari immagino sia la guarigione ok perfetto carino questo nerf è ok action riducono la passiva dello scudo anche qua avevano detto il nerf degli scudi il sustain dell'idee alistar lo scudo dell'adn a figlios non mi interessa ne ho idea lo scudo dell'adn a figlios potevano risparmiarselo però ok eh a parte lo scudo anche il potere ma serviva anche quello immagino vero la guarigione di bard peccato l'avevano appena baffata camille lo scudo non mi interessa cassapea guarigione contro i bersagli avvelenati 4% non cambia un cazzo la passiva di ciogatta broken quella che uccidi i minion e i ticuri giusto guarigione contro i campioni mostri grandi ridotto non mi interessa lo scudo di diana ridotto di 5 e di 1% 5% ok rilevante salute del base aumentata r qui ridotta del 5% ci sta lo scudo di ecco ridotto ci sta elize passiva guarigione attacchi base ok nerfato se si mi aspetto tutti i nerf così il succhiamento di fiddlestick è nerfato ciro succhiami il cazzo godo la w di gallio scudo a meno danno magico completamente irrilevante la w di gp cura 5 applauso a riot games per favore il nerf del 30% alle guarigioni eccolo qua un applauso un applauso ragazzi il nerf a gunplank palese grossissimo il grandissimo nerf del 10% grazie 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 eccolo qua abbiamo 5 di cure in meno sulla w ingiocabile ingiocabile ragazzi ingiocabile gunplank morto gunplank fazione come fai a giocare gunplank adesso con 5 di cure in meno sulla w come è possibile signori non si può giocare no è morto gare ricettazione salute ridotta godo anche qui ok va bene chi se ne frega scudo ridotto di 25 del 2% ok grossino passava guarigione di gragas 1 e mezzo va bene danni danni inflitti sicura di meno del 10% carino meno ridotto anche qua si ci sta il laoi tentacolo il culo nella oida il 4% ci sta a culo la guarigione ridotta anche qua 5% poi dopo devi fare il 4 qua su i reli anche il 5 però va bene ivern lo scudo questa qua è una spell grossissima su ivern 30 in meno perché ivern utilizza abbastanza immagino un botto di questa roba qua carino anche ridotto il potere magico la e di gianna fermi tutti vediamo un po 30 anzi 25 in livello 5 in meno e 5 per cento di potere magico tecnicamente quanto è che scuda di meno signori allora scudo di 25 più il 5 per cento della p per me è rilevante cioè è rilevante nel fare del 10 per cento gli scudi ragazzi è assolutamente irrilevante cioè hai baffato il resto però vediamo vediamo andiamo a giocare dal massimo più avanti se volete vediamo guarigione al secondo da cento novanta 145 da 5 a 200 da 5 è grosso nerf è assoluto ingiocabile ragazzi guarigione al secondo ridotta uccisa gianna vero ma in figa ha detto amare jarvan quarto scudo basso ridotto di 20 incremento scudo ridotto di 0 2 bene lo scudo di kaiser astro rotta sta roba qua è un nerf grosso ridotto 20 per cento in meno 10 per cento in meno e anche qua 15 va bene scudo di karma 3 per cento in meno hanno la doppia avosculata 3 per cento in meno scudo di karma 5 per cento e 30 grossa anche questo molto interessante 20 in meno e 45 per cento in meno ok frittacavi cataria non me ne frega un cazzo dopo di kylie irrilevante però è grossa immagino late game però 5 pure se la v ora che ce li hai ciao bello chi se ne frega kane morisse adesso vi aspetto il nerf più grosso del 5 mila per cento uccisione d'arca in guarigione abilità contro i campioni ridotti del 5 per cento la guarigione della e ragazzi ok 30 in meno e 5 per cento in meno uccisione d'arca in guarigione 10 per cento 9 75 9 1 8 45 ok ragazzi come gli altri ok un nerfino guarigione di kazix la v 25 per cento 25 in meno guarigione della r 25 in meno cled ferita grave ridotta l'avevo già parlato salute di scarse 5 per cento in meno ok lì sì in la v ovviamente anche qua in meno si è sempre la stessa cosa su tutti ragazzi immagino ragazzi vado a vedere solo i campioni che uso sinceramente o i support non vale non me ne frega degli altri dai lulu support ci interessa si è un support 5 per cento in meno 25 in meno ok r da 25 in meno di vita godo il 5 per cento ok godo lo scudo della luce che conduce abduce 5 per cento in meno uguale 25 in meno 5 meno early game ok ci sta passiva di malfai non mi interessa ma ok mi interessa se non si sa mai guarigione di attacchi base potenziati va bene rilevante guarigione abilità morgana 2 per cento irrilevante nami guarigione broken as fuck sta roba qua per fortuna è nerfato 25 in meno e 5 per cento in meno interessante nautilus scudo nerfato di 5 e 1 per cento irrilevante carino sto nerf irrilevante a nautilus da provare nunu solo per sommo solo leggo 30 in meno 20 in meno 4 in meno ok poi all'altri li avete nerfati questo qua l'avete ammazzato però bene così oriano mi interessa poi crimini sulle regoligione dal 60 5 per cento salute massima danni a salute grigia nerfa scusate ma non era il buff che avevano fatto prima di prima di nerfare la r non avevano buffato questo prima di nerfare la r scusate quindi una match va bene pike non giocatelo rakan in molto interessante lo scudo nerfato di 20 di di 30 ok la passiva 32 25 la balza di 2 54 all'ate game ok ci sta 5 per cento in meno e la passa ok va bene dai la e che è lo scudo è vero e proprio 140 135 nerfato di 5 nerfato di 5 10 per cento ok carino la guarigione sulla q è di nerfata di 30 ok va bene dai taric dopo immagina guarigione di rel con la q per campione colpito nerfato dell'uno per cento saluta mancante ok lo schianto lo scudo è 25 in meno e 1 per cento in meno ok renata klaska meno scudo di 20 carino le netto non mi interessa rumble non mi interessa senna eccoci qua finalmente 20 di guarigione in meno meno ok più l'attacco fisico in meno ok va bene lo stesso ci sta lo scudo della r invece è nerfato early game però tu non è non fai la r per scudare fare r per killare dalla parte opposta della mappa giusto ragazzi guardiamoci bene nelle palle degli occhi nerfato seraphin che già era poco giocata infatti è nerfata di poco almeno scudo della v nerfato di 10 mentre tutti gli altri shield sono stati nerfati di 25 più 10 per cento lei è stata nerfata di 10 più 5 per cento molto interessante ma anche perché lo scudo scuda di meno naturalmente guarigione per alleato pochissima 0 15 in meno ci sta lo senti chiaramente ovvio scudo di scena mi interessa se non mi interessa sona vediamo un pelo sona che spamma cura e 20 più 5 per cento sulla v scudo il guarigione di 20 anche lì 20 per cento sulla w di sona tanta roba ragazzi ma di nuovo voglio vedere soraka spell che è clamorosa 50 nerf in late game into 15 per cento in meno sulla doppia v signori siamo davanti perché perché questo mi fa capire che la gente sa rio game sa quanto quanto è broken no sa quanto è broken soraka in team fight lunghi e viene over 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 nerfata tuttavia perché ovviamente la v la puoi spammare questo qua è un over 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 nerf signori che ci può stare assolutamente perché rispetto agli altri scuda e cura con scudate cura con meno cura con meno cooldown attenzione che anche sona ragazzi però spamma cure e quindi non ha molto senza averla nerfata solo di 20 mentre lei di 50 però curando appunto la metà in realtà ha senso swain ci può interessare assolutamente sì guarigione per valento d'anima del 2 per cento in meno ok vabbè chi se ne frega tankance piccante croccante la guarigione della q signori nerfato di 10 e dell'1 per cento va bene così danni magazzinati di meno va bene sappiamo ok taric taric lo voglio vedere secondo me perché può avere senso questo campione qui ragazzi 5 in meno della guarigione sulla q 5 per cento in meno e 0 25 e nerfato lo scudo dell'1 per cento ok taric non è stato tanto toccato da sta roba ragazzi eh taric dateli diamo un'occhiata a taric darò un'occhiata a taric perché taric se il team fight è broken se il team fight è più lungo taric ragazzi può fare assolutamente la differenza taric ce lo aggiungiamo in lista dei champion da provare eccolo qua al 3 c'è andata non diceva che lo stile che base di resistenza ok non ha le resistenze però la crisi della salute è aumentata lo scudo ma l'avevano appena abbaffato lo scudo ma l'avevano appena abbaffato le anime per lo scudo in giro traando le brocane traando le brocane sto metà qua però traando le traando il brocane no ragazzi ruba resistenze ruba resistenze tecnicamente solido non vado lì a dire astro broken però qualcosa in più rispetto agli altri ci può stare il traando ragazzi da tenetelo d'occhio tenetelo d'occhio il traando tenetelo d'occhio e dentro assolutamente d'occhio ragazzi non ci interessa non ci interessa non ci interessa vladimir vorrei leggerlo per tiltare ma non mi interessa non mi interessa yumi nerf del 5 per cento questo qua è lo scudo ok interessante nel fatto di 40 inutile nerf early game l'hai guarigione nerfata di 25 e del 10 per cento ok almeno hanno nerfato anche yumi ragazzi ci sta se arriviamo in fondo senza nerf tiltavo nerfate anche gli oggetti come potete vedere ragazzi hanno abbaffato le resistenze hanno nerfato il dps per questo vi dico che i mage support non possono workare tecnicamente non ha senso bravo nerfano anche questo brand perché ragazzi ci metti anche un bel po a comprare questi oggetti da sapo ragazzi devi fare tre item per arrivare a avere bastone del vuoto abbraccio demonio col se giusto in quel momento lì e liandri nerfata la pietra di una rinnovata molto interessante nerf irrilevante perché l'item è rotto danza e la morte se non la nerfavano giocavano solo sta roba qua perché è rotta tutto il resto non mi va di leggerlo voto del cavaliere autoguarigione 1 per cento inutile ok ci sta medaglione deve scildare di meno scilda di meno di 20 interessante guarigione del michael di meno irrilevante lo sai per il cc in competitivo meno cure del redemption 20 in meno ok interessante sono tornato magister si ricordi che non potranno mai nerfata tolgono l'earing il sustain avevamo detto ruba vita le rune fonte vitale qua 5 più 0 9 per 5 più 1 ok per 6 mortali nerfato tutto nerfato tutto nerfato guardia nerfato 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 ragazzi la runa quella sotto che ti dà hp è nerfata quella minore il barrier scuda di meno la guarigione cura di meno l'ignite fa meno ferita ok meno ferita grave cura di meno toccano i draghi fermi 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 questo è interessante toccano i draghi fermi molto interessante montagna ovviamente deve venir nerfato perché scuda 20 in meno scala di meno sulla d sulla p e sulla vita ok drago dell'oceano ovviamente anche qua parliamo di generazione 8 per cento la salute mancante e sti due draghi sono i più broken nella gente e riot lo sa benissimo che al momento sono i più broken dopo questo buffa tutto quanto parone nascio al tago fisico ha aumentato quindi il nascio fa più danno interessante per il competitivo questa roba qua molto interessante il baron niente più sfortuna il barone aspetta 30 secondi dopo aver subito danno il periodo aumentare di livello tenere statistiche già salute questa roba qui ragazzi l'hanno fatto anche per il competitivo perché la gente sbaglia lo smite stacco fisico delle torri me l'avete detto prima buffato molto interessante su il r corretta ecco se era buggato bug d'italia ragazzi è il vostro momento di dirmi ciò che pensate pensate di questa pace io credo che i tank siano astro rotti credo che i bruiser che builderanno dead dance e sustain nonostante il nerf siano astro broken perché sono appunto champion che vogliono fightare fare fight lunghi allungando i fight quei champion lì con il sustain reggono ragazzi vi l'assicuro grazie agli hp e gli armor e resistenza che hanno dato quindi tank bruiser top meta by far così come potrebbe starci però il champion rumble che non si sa mai quei champion lì di merda che ti vanno un attimo a conterare magari il tankino però non lo so con lancia fiamme non lo so sto pensando support per quel che mi riguarda ragazzi c'è una cosa da vedere se parliamo alcune composizioni gli utility sono forse i tank rimangono però ragazzi i tank rimangono dipende da quanto effettivamente è difficile tirarli giù se abbiamo champion come vain abbiamo champion come cog open secondo me gli utility sono by far più rotti e quel game lì ragazzi quei champion lì che fanno danno sulla vita sono bro che tecnicamente leggermente di più rispetto agli altri perché gli altri non riusciranno a tirare giù champion con tante statistiche quindi magari ha senso andare a giocare un tank playmaker support quando sei ok si ha senso anche quando contro roba che non si può shottare cioè tecnicamente tecnicamente ha senso questa roba qui quindi da più apre più alla logica quando vai addirittura a draftare non è più random magari solo più devi anche pensare di più in competitivo non cambia perché devi anche ragionare in solo q ti può aiutare di più le persone in solo q in championship ad aprire il cervello molto interessante ragazzi molto interessante io i mage support li vedo morti sinceramente ragazzi perché devi abusare early game devi abusare early game ragazzi per andare a aumentare i soldi se non riesci a abusare early game non riesci a chiudere gli item e quindi non riesci a poi ok è vero che poi danni sulla vita perché hai liandri bla bla tecnicamente liandri ti può aiutare ma non è fatto il void all'ha fatto la zacana che dovrebbero provare secondo me ragazzi è più difficile killare il laning phase è molto più difficile killare il laning phase quindi non ha senso andare a giocare quei campioni lì magari poi in effetti in realtà liandri è talmente broken rispetto agli altri item che in realtà mi va ad aprire la porta mi va ad aprire la porta però ragazzi il il mage è un burst champion vuole burstare il burst contro champion che hanno più resistenze magari anche pilati no e robe così non ha molto senso secondo me il mage support è morto secondo me ragazzi questo è il funerale del nostro brand questa pace qui così come non riesco a capire cosa hanno in mente per gli assassini ragazzi non so cosa hanno in mente per quei campioni lì ciao magister ha visto l'altro giorno hanno scoperto l'acqua su marte davvero marte uno africa zero